Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a consentire ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina di stringere il cerchio attorno alle due ladre che nel novembre scorso fecero man bassa di prodotti in una nota profumeria del centro salese. Si tratta di due donne già pregiudicate di 38 e 56 anni, distanza deboli, che stamane sono state arrestate per furto aggravato. La mattina dello scorso 10 novembre si recarono nella profumeria di via Mezzacapo e mentre una distraeva la commessa, l'altra asportava profumi e prodotti cosmetici per un ammontare di 1.300 euro nascondendoli nella borsa. Poi entrambe uscirono senza aver acquistato nulla. Un furto messo a segno con destrezza ed esperienza, tanto che la commessa non si accorse subito di ciò che era accaduto. Fu solo successivamente che venne sporta denuncia e si andarono a visionare le immagini delle telecamere individuando le due donne come responsabili del furto. Le indagini condotte con la procura della Repubblica di Lago Negro dai militari della stazione Sala Consilina hanno permesso di portare a casa il risultato con l'arresto delle pregiudicate. Alle donne è stato poi applicato l'obbligo di dimora nel comune di eboli come disposto dal GIP del Tribunale di Lago Negro.